Eccoci signori, faccio questo video per ringraziarvi, ho finalmente raggiunto i 10.000 iscritti Quando ho iniziato pensavo fosse più facile arrivare a 10.000 iscritti, in realtà è un traguardo che se andiamo a guardare Se noi andiamo a guardare i numeri in sé, ok? 10.000 sono tanto, ok? 10.000 persone che vanno a seguire me Che vanno a seguire il mio canale YouTube, il mio canale YouTube ragazzi è un canale molto targetizzato Un canale molto molto di nicchia, tratto di forex, di criptovalute, quindi è a mio parere un gran bel traguardo Allora, io ho iniziato a fare video, adesso io sono a Tenerife ragazzi, qua si sta benissimo Già tra l'altro tra pochissimo, tra 20 minuti arriva mia mamma qua in albergo, viene una settimana in vacanza In questo video vi farò vedere i miei guadagni mese per mese di YouTube, quindi vedrete mese per mese quanto ho guadagnato con YouTube Siccome ho già portato varie volte video di questo tipo nel canale e quando ho iniziato a fare video su YouTube Video di persone che appunto mostravano i loro guadagni mi ha motivato ad iniziare a percorrere questa strada Diciamo che io nella mia vita, ok? Posso essere onesto con voi, non ho mai lavorato un giorno da dipendente Ho creduto nelle mie passioni, ok? Da cos'è che è nato questo canale YouTube? È nato dal fatto che io ho creduto nelle mie passioni, ho trasmesso, ho condiviso la mia conoscenza su YouTube E questa base di partenza mi ha permesso oggi di poter vivere delle mie passioni Vivo di questo, vivo dei miei investimenti, vivo dei business che sono riuscito a creare Per quanto riguarda YouTube, dopo passerò a computer e vi farò vedere i guadagni I guadagni di YouTube non permettono a uno YouTuber di vivere, ok? Se noi andiamo a guardare solo ed esclusivamente i guadagni di per sé, i guadagni della monetizzazione di YouTube Uno YouTuber, a mio parere, nell'ambito finance Ricordiamo tutti che l'ambito finance è un ambito molto di nick Quindi anche il fatto di poter andare a guadagnare con determinati link Piuttosto che è un settore che permette, a mio parere, di guadagnare molto rispetto ad altri settori di YouTube Al di là di YouTube stesso Quindi YouTube, che cos'è per quanto riguarda me? È, diciamo, la mia vetrina, è quello che sono io Su YouTube voi trovate i miei video, quello che io condivido Le mie esperienze, i miei traguardi Anche quelli che possono essere gli insuccessi Quindi si parte da questo, si parte dalla condivisione E poi sta a una persona, sta a qualsiasi persona Saper riuscire a trasformare questa passione in un vero e proprio business Che permetta di vivere Se una persona ci crede, dipende tutto da voi ragazzi È come chi fa il calciatore, c'è chi arriva in Serie A e c'è chi va a fare la terza categoria C'è chi arriva a fare il dilettante, c'è chi arriva in Serie C Dipende dal vostro impegno Chiaramente questo è un lavoro diverso dal fare il calciatore È un lavoro diverso dalla maggior parte di tutti gli altri lavori tradizionali In Italia non ci sono tante persone che comunque siano un canale di finanza con più di 10.000 persone Quindi è un settore, come vi dicevo, molto molto di nicchia Quello che vi posso dire io è che YouTube mi ha permesso di poter completamente vivere in maniera autosufficiente Che quindi io tramite YouTube, chiaramente i miei investimenti e tutto quello che ruota attorno a questo Che come vi dicevo è il vero e proprio guadagno di uno YouTuber Mi permette ad oggi diciamo di vivere più che bene Per questo io a YouTube sarò sempre grato Perché io su YouTube ragazzi ho portato me, ho portato la mia esperienza, i miei contenuti Poi chiaramente appunto c'è un business dietro perché io devo viverci di YouTube Non posso portare video, adesso vi farò vedere i guardi di YouTube e non viverci perché sennò io come vivo Però mi ha permesso di iniziare e mi ha permesso di avere queste 10.000 persone che mi seguono, mi supportano eccetera eccetera Questo switch, capire che YouTube è una fonte per poter poi vivere da altre cose Perché ripeto per la stragrande maggior parte delle persone che fanno video di finanze in Italia è molto difficile Che riescono a vivere solo ed esclusivamente dalla monetizzazione, vivono da altre cose, da altri servizi È un qualcosa che vi permette poi di diventare dei piccoli imprenditori come appunto lo sono io Io sono grato a YouTube, YouTube mi ha permesso tutto questo di poter essere qua a gennaio due mesi in isolamento alle Canarie È partito tutto da là, è partito tutto da voi, quindi vi ringrazio di cuore ragazzi siete stati fantastici in questi due anni di YouTube Spero che questo video possa servire a qualcuno per prendere forza e iniziare magari a raccontarsi online, a iniziare a fare video Credeteci, YouTube vi dà la possibilità di farlo, dipende come in qualsiasi cosa, solo ed esclusivamente da voi Adesso chiudo il video facendovi vedere le statistiche e i guadagni che ho avuto in questi primi due anni di monetizzazione con YouTube Perfetto, eccoci dentro le analytics del mio canale YouTube Ho raggiunto i 10.000 iscritti nel canale, ragazzi ha un traguardo veramente veramente molto importante Se noi andiamo a vedere l'intera durata, il numero di visualizzazioni complessive è stato di 673.000 views E come vedete il guadagno totale è stato di 4.557 euro Che in circa due anni di monetizzazione possiamo dire che non permettono a YouTuber di vivere Non permettono a me come a tanti altri YouTuber del settore finance di vivere Come detto ci sono altri guadagni che per la maggior parte delle volte sono superiori alla monetizzazione di YouTube Questo è stato il primo anno di YouTube Primo anno di, diciamo anche di monetizzazione di YouTube Quindi ho iniziato ad essere monetizzato il 25 marzo 2021, circa due anni fa Ho guadagnato 2,56 euro nel mio primo giorno di monetizzazione Mentre il massimo che ho raggiunto è stato di 34,76 euro Sempre nel 2021 Per quanto riguarda il 2021 ho effettuato veramente tante tante visualizzazioni Tanti iscritti Il 2021 diciamo che è stato un anno d'oro per YouTube Sarà il coronavirus Molte persone erano a casa Quindi sicuramente l'interesse sia su YouTube in generale sia sulla finanza erano superiori Ho pubblicato tanti video, sono stato costante È stato l'anno in cui mi sono dedicato prevalentemente a YouTube Poi c'è stato il 2022 Quindi se noi andiamo a vedere quello che è il 2022 Ecco le statistiche sono un po' diminuite Perché se noi andiamo a vedere le visualizzazioni Ne ho fatte 269.000 Invece di 300 e passa 1.000 del 2021 E anche per quanto riguarda le entrate Vedete abbiamo iniziato l'anno con circa 10-12 euro di entrate Per poi chiuderlo sui 5 ragazzi Ed è la media che sto andando a tenere nel 2023 più o meno Quindi per quanto riguarda il 2022 Ho fatto 2.660 iscritti in confronto ai più di 6.000 del 2021 Non è stato un anno buono per me su YouTube Diciamo non ho pubblicato molto Non ho dato importanza a YouTube come l'avevo fatto nel 2021 Motivo per il quale quest'anno cercherò di ridare importanza a YouTube Al mio canale YouTube Perché è un qualcosa a cui ci tengo molto Le entrate però vedete a fronte di 269.000 visualizzazioni Sono state di 2.282 euro Se ci riprendiamo invece il 2021 Guardiamo le entrate del 2021 2.150 Quindi le entrate del 2022 sono state leggermente superiori All'entrata del 2021 Chiaramente nel 2021 la partner mi è iniziata a marzo Mentre nel 2022 l'ho avuto attiva tutto l'anno Il numero di visualizzazioni è stato inferiore Andiamo poi nel 2023 Andiamo a vedere le statistiche di come abbiamo aperto quest'anno Quindi per quanto riguarda quest'anno Per ora abbiamo totalizzato nel mese di gennaio 18.000 visualizzazioni Entrate all'incirca Vedete guadagno sui 5 euro al giorno Se noi andiamo a considerare gli ultimi 365 giorni Per quanto riguarda le entrate Ok giornaliere sono rimaste più o meno Vedete invariate Poi qua all'inizio lo scorso anno guadagnavo di più L'idea di quest'anno è quella di riportare YouTube Diciamo come priorità Per quanto riguarda il mio business Lo farò tramite il video short Tramite tanti altri video lunghi Come per esempio questo Insomma Io ci tengo molto YouTube Ed è secondo me qualcosa di molto molto importante Penso di avere uno dei CPM più alti di YouTube Italia In realtà guardate come il CPM si è aumentato Ok quindi col tempo il CPM dei miei video sta aumentando Se noi andiamo a considerare per esempio gli ultimi 28 giorni Ho avuto un CPM medio di 20,85 Mentre un RPM di 12,7 Quindi vuol dire che per mille visualizzazioni all'interno del mio canale A me entrano 12,70 euro Poi chiaramente devo andarci a pagare le tasse su questi soldi eccetera eccetera Quindi per quanto riguarda l'RPM e il CPM sono fiducioso Sono felice perché è aumentato e sta aumentando Per quanto riguarda invece il mio numero di video Non sono stato affatto soddisfatto dal numero di video dell'anno scorso Ho fatto addirittura mesi senza pubblicare video Quindi bisogna riprendere ragazzi Ok bisogna riprendere Per quanto riguarda i profitti mese per mese Ok andiamo a vederci Mese per mese i profitti Quindi il mese che ho fatturato di più è stato maggio del 2021 Maggio del 2021 ho guadagnato 392 euro Quindi per quanto riguarda la domanda Si può vivere di YouTube? Ni Questi sono i guadagni che io sono andato a realizzare mese per mese Ok da quando ho aperto il canale di YouTube Considerate che chiaramente io sono in un settore molto di nicchia Il CPM è alto ma le visualizzazioni sono basse rispetto ad una nicchia più tradizionale In ogni caso penso che qualsiasi YouTuber non possa vivere solo ed esclusivamente da YouTube Ma deve crearsi altre fonti di entrate che vanno di pari passo al canale O che possono essere diciamo collegate al canale in qualche modo Perfetto signori Questo video direi che si può concludere qua Adesso vado a prendere mamma Noi ci vediamo nel prossimo video Mi raccomando iscrivetevi Il prossimo target sono i 20.000 iscritti Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao